Il cuore non sta cercando di dire niente. Sta solo cercando di assicurarsi che ogni parte del corpo riceva il nutrimento del flusso di sangue. Quindi è il tuo cervello che parla lingue diverse. Quindi prima che tu investa questa vita in qualcosa, devi vedere, se oggi investo la mia vita in questo, dopo 25 anni, significherà ancora molto per me. Dopo 50 anni, significherà ancora molto per me. Alla fine della mia vita, se mi volto indietro e guardo, ne sarò orgoglioso o mi vergognerò di cosa sto facendo in questo momento? Namaskaram Sadhguruji. La prima domanda che voglio fare in realtà riguarda me. Sono all'ultimo anno di ingegneria, quindi c'è una decisione molto importante che devo prendere ora. e delle persone mi hanno detto che se prendo le decisioni con il cuore, avrò successo nella vita. Ma c'è un problema. Il problema è che non so quale pensiero viene dal mio cuore e quale pensiero viene dal mio cervello. Quindi, come posso capire quale pensiero viene dal mio cuore e quale viene dal mio cervello? Il cuore fa solo due suoni. Dab, dab. A meno che le ragazze del posto non lo disturbino e diventi un po' matto. Altrimenti fa solo due suoni. Il resto del rumore viene tutto dalla tua testa. Questa idea che qualcosa viene dal cuore, qualcosa viene dal cervello, è metaforica. Ma sfortunatamente molte persone la prendono alla lettera. C'è stato un tempo in molte parti del mondo, particolarmente in Arabia. La scelta medica in Arabia credeva che il sangue fosse pompato dal fegato. Forse hai sentito i proverbi urdu su Caligia, il fegato, sai? Li hai sentiti? Perché credevano che il sangue venisse pompato dal fegato perché il fegato è un organo molto più complicato del cuore. Il cuore è una semplice pompa. Quindi non dargli altra responsabilità oltre a quella di pompare continuamente il sangue e mantenerti in vita. A meno che qualcuno qui non lo spezzi. Quindi, riguardo all'ultimo anno di ingegneria, voglio che tu cambi questo linguaggio perché è successo questo. Posso raccontarti una pranzelletta? Ok? Sei piuttosto serio su questo. Ecco perché te lo chiedo. È successo questo. Uno scienziato molto celebre. Era a una cena. E non era vestito elegantemente o alto. Sembrava molto ordinario. Quindi la signora che era, sai, era seduta accanto a lui. Non gli prestava molta attenzione. Non sa chi sia. Ma dopo un po', solo per essere educata, per fare un po' di conversazione, so sapere cosa fai. E lui disse, sto studiando scienze. lei disse, oh, l'ho finita in terza media. Quindi non sarai, non sei all'ultimo anno di ingegneria, forse nel corso, ma non all'ultimo anno di ingegneria, perché per tutta la tua vita, se impari l'ingegneria, quando starai morendo, dopo cento anni, va bene? Non lo sto prevedendo. Dopo? Dopo cento anni, quando starai morendo, saprai ancora se sei un processo di apprendimento costante, saprai ancora che sai molto poco di ingegneria. Con quel poco, molte cose accadono. È diverso. Quindi non essere all'ultimo anno di ingegneria. So che il programma magari si sta concludendo, ma non l'ultimo anno di ingegneria, va bene? Quindi, una progettazione, essenzialmente ingegneria significa avere delle cose come vogliamo. Sì? Quando diciamo che questo edificio è ben progettato, non lo sto dicendo. Se diciamo che questo edificio è ben progettato o un'automobile è ben progettata, cosa significa? È che sta funzionando nel modo in cui vogliamo. Sì? di tutte le opere di ingegneria su questo pianeta. di molte opere di ingegneria. Un albero è una progettazione fantastica. Anche una montagna è una progettazione fantastica. Perché è stata lì per un milione di anni. Questo significa che deve essere una buona progettazione. Non è così? Sì? Qualcosa che sta lì per un milione di anni deve essere ben progettato. Tra tutte le opere di ingegneria è un'opera più sofisticata di ingegneria è il meccanismo umano. Non è così? Ci siete? La più sofisticata tra tutte le opere di ingegneria. Ora, siccome è un'opera sofisticata di ingegneria, necessita di un certo livello di attenzione. Altrimenti non la capisci. Ora che ti abbiamo dato un'opera così elevata di ingegneria high-tech, ti chiedo, hai letto il manuale d'uso? Penso che non ci sia un manuale d'uso. O no? Come posso fare una progettazione così fantastica senza un manuale d'uso? Forse non viene con un libretto attaccato al tuo collo quando nasci. Ma le indicazioni devono esserci. Non è così? Su come usarla? È vero che qualcuno che è un atleta, una ginasta o qualcun altro del genere impara a usare il proprio corpo più di tante altre persone? Sì? Ovviamente. almeno un aspetto dell'ingegneria fisica del corpo sembrano aver letto il manuale d'uso sugli aspetti fisici. È vero che alcune persone sono in grado di usare la propria mente meglio di altre? Forse hanno letto un'altra parte del manuale d'uso. Quindi, ora, questo manuale del cuore e il manuale del cervello vedi, il problema è che la maggior parte delle persone hanno pregiudizi contro il cervello. Questa è una domanda che mi viene sempre rivolta. Sadhguru, voglio meditare ma i pensieri arrivano. È una domanda comune ovunque. Chiedo loro vedi, ti farò meditare. Fermeremo il fegato, fermeremo il rene, fermeremo il cuore, fermeremo ogni cosa. Va bene? No, Sadhguru? Quindi vuoi che il fegato funzioni quando stai meditando? Vuoi che i reni funzionino? Vuoi che anche la milza funzioni? Vuoi che il cuore funzioni? Ma non vuoi che il tuo cervello funzioni per qualche motivo? Questo è semplicemente perché il cervello è un nuovo dispositivo che hai ottenuto nel processo evolutivo. Questo livello di sviluppo cerebrale è accaduto più recentemente rispetto agli altri sistemi. Se sezioni un qualsiasi mammifero hanno tutte queste parti. Non è così? Ogni parte che hai qui le hanno tutte. Anche se apri una rana, la maggior parte di voi siete nel dipartimento di biologia. anche se apri una rana. Quasi tutto quello che hai tu ce l'ha anche lei. Non è così? È solo... La grande differenza è solo lo sviluppo cerebrale che è un evento più recente. Siccome è un evento più recente, la maggior parte delle persone non ha capito come gestirlo. Quindi il manuale d'uso è molto importante. non leggi il manuale d'uso subito prima di buttare la macchina. Lo leggi nei primi giorni. Non è così? Ci siete? Se compri il telefono vuoi leggere il manuale d'uso nei primi tre giorni o dopo tre anni? Quando lo stai buttando via? Nei primi tre giorni. Non è così? Quindi sapere come questo funziona è molto importante. Mai e poi mai il cuore ha generato alcun pensiero o intenzione. Beh, quando guardavi la ragazza il cuore batteva di più. Ma non significa che stia dicendo qualcosa. Sta solo cercando di compensare gli altri livelli di eccitazione che stanno accadendo. Il cuore non sta cercando di dire niente. Sta solo compensando. hai bisogno di più sangue e quindi pompa un po' più forte. Accadrà anche se sali la scala di corsa. Sì. Ciò che ti accade che sei un po' senza fiato quando ti innamori accade anche fisiologicamente quando sali una scala di corsa. Sì o no? Anche la paura fa questo a molte persone. Quindi il cuore non sta cercando di dire nulla. Sta solo cercando di assicurarsi che ogni parte del corpo riceva il nutrimento del flusso di sangue. quindi è il tuo cervello che parla lingue diverse. Qual è la tua lingua madre? Qual è la tua lingua madre? Quindi siccome conosci due o tre lingue a volte si confonde a volte parla inglese a volte parla samese a volte qualcos'altro quindi pensi che diverse persone stiano parlando il cuore parla la mente parla no c'è il pensiero e c'è l'emozione. Le persone pensano che queste due cose stiano dicendo cose diverse non stanno dicendo cose diverse il modo in cui pensi è il modo in cui ti emozioni non è così? In questo momento se penso oh è la persona più meravigliosa sul pianeta devo solo pensarlo le mie emozioni diventano dolci verso di lei ora penso è la creatura più orribile sul pianeta ora le mie emozioni diventano sgradevoli sì o no? Non posso pensare che lei sia orribile e avere emozioni dolci posso pensare che sia meravigliosa e avere emozioni sgradevoli non è così? Ma oggi ho pensato che fosse la persona più meravigliosa e la mia dolcezza traboccava improvvisamente fa qualcosa domani che non mi piace? Penso che sia orribile il pensiero è agile cambia direzione all'improvviso le emozioni sono un po' melense serve tempo perché facciano dietro fronte quindi in quell'intervallo fai fatica come se ci fossero due dimensioni diverse che accadono perché il pensiero dice una cosa l'emozione è ancora dolce perché ci vuole del tempo finché diventi sgradevole tutti fanno fatica ma ci arriva o no dopo un po'? Ci siete? Oggi hai pensato è meravigliosa la dolcezza scorreva domani fa qualcosa che non ti piace pensi che è orribile veramente il pensiero dice chiaramente è orribile ma le emozioni fanno fatica perché non possono svoltare velocemente hanno bisogno di tempo per svoltare ma dopo una settimana o dieci giorni o due mesi a seconda di quanto profondamente sei coinvolto dopo un po' l'emozione raggiunge il pensiero anche l'emozione dice sì è orribile quindi siamo sgradevoli con lei quindi non stanno parlando lingue diverse uno è agile l'altra è un po' lenta negli angoli quindi sembra che stiano parlando lingue diverse quando si tratta di ciò che vuoi fare devi pensare chiaramente è molto importante pensare chiaramente significa la domanda non riguarda cosa mi porterà a questo cosa mi porterà a quello sei la tua vita è preziosa per te a tutti voi chiedo la vostra vita è preziosa per voi quindi prima che tu investa questa vita in qualcosa devi vedere se oggi investo la mia vita in questo dopo 25 anni significherà ancora molto per me dopo 50 anni significherà ancora molto per me alla fine della mia vita se mi volto indietro e guardo ne sarò orgoglioso o mi vergognerò di ciò che sto facendo in questo momento non importa cosa dicono le altre persone ma non dovresti fare niente di cui ti vergognerai non è così non importa che le persone dicano tante cose tutti hanno un'opinione sono a fare loro ma non fare qualcosa di cui ti vergognerai non è così altrimenti agirai contro te stesso qualcuno agisce contro di te puoi lasciarli andare altrove se agisci contro te stesso dovrai conviverci per sempre quindi devi guardare solo questo qualcosa ti darà dei soldi qualcosa ti darà comfort non è questo il punto ciò che scegli di fare ti darà una vita quando dico darti una vita stai solo cercando di guadagnarti da vivere o stai cercando di farti una vita con questo è importante guadagnarsi da vivere non è un problema un verbo un insetto un uccello un animale tutti si stanno guadagnando da vivere non è così ci si stanno anche facendo una vita ma decisamente si guadagnano da vivere quindi guadagnarsi da vivere con un cervello così grande non è un problema guadagnarti da mangiare non è un problema guadagnarsi da vivere non è un problema l'unico problema è che vuoi vivere come qualcun altro questo è un problema senza fine voglio vivere non è un problema voglio vivere come te questo è un problema quindi è importante se consideri la tua vita una vita preziosa devi assicurarti di farne una vita meravigliosa qualsiasi cosa si apre in quella direzione quella è la cosa che dovresti fare ma quando sei sotto la pressione dei compagni qualcuno dice vado in America qualcuno dice ho trovato un impiego statale qualcuno dice faccio questo quindi una cosa che tutti voi dovreste fare prima di prendere decisioni importanti nella vostra vita è di allontanarvi da queste pressioni dei compagni dei professori dei genitori tutti passa semplicemente dai tre giorni a una settimana da solo osserva cos'è che vuoi davvero fare non sotto la pressione di altre persone cosa vuole fare questa vita fai quello non importa cosa pensano le altre persone di merito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti